Carta Valore Famiglia Carta Valore Famiglia Questo significa riportare al centro dell'attenzione il valore fondante di una società che è quello delle famiglie e avviene grazie al contributo di commercianti, di istituzioni che sono disposte con i propri associati a fornire una scontistica. Diciamo che il risultato economico netto sarà a mio avviso quello di muovere un po' più l'economia della nostra città ma soprattutto di dare un beneficio e una riconoscibilità, un'appartenenza alle famiglie. L'elenco degli operatori commerciali che adotteranno la riduzione dei prezzi sarà pubblicato nel sito internet del Comune.